Sono viola e partendo per Non riconoscerla subito l'equazione di Dirac Perché tu hai scritto in poca storia Se giro la mano così si vede Secondo questa equazione Quando i due sistemi interagiscono tra di loro Anche se separati Si influenzano l'uno con l'altro Come se fossero una cosa sola Come noi Cazzi capite che sei affidato Ti dici per studiare Quella intelligente se tu vuoi Vabbè allora me la conservo qua Adesso tocca a te A me? Dammi la mano Anche a te una cosa scientifica Più o meno Ma 9x9 Farà 81 Eh Eh 9x9 9x81 Ma la tantissima Ma la tantissima Ma la tantissima È E EU E Grazie a tutti.